ok siamo qui con polo piacenza vince 3 a 0 a monza vittoria fondamentale vittoria con sorpasso e soprattutto una partita molto molto solida queste sono le partite che danno un senso a una stagione no tra noi e loro è stata una buona stagione queste sono le partite che danno quel qualcosa in più per cercare di dare un senso importante una stagione non abbiamo fatto un ancora nulla perché dobbiamo pensare a milano siamo molto contenti ci siamo allenati veramente tanto bene c'era un clima positivo la cosa più bella di questa partita è stata la nostra relazione sul secondo set quando siamo andati sotto non abbiamo mollato perché con una squadra come quella di monza non puoi permetterti di regalare nulla dopo una stagione di rincorsa adesso questo finale in crescendo ma allora dove volete arrivare il nostro obiettivo è arrivare quarti per avere la possibilità di giocarci la semifinale ma questo è un campionato strano modena non potrà arrivare né quarta né quinta ma sicuramente playoff farà bene milano ha avuto problemi di covide ma adesso sta recuperando quindi staremo a vedere anche cosa succederà nelle prossime partite ora la testa a milano che cosa dovrete fare per continuare il vostro momento noi dobbiamo giocare come abbiamo giocato oggi poi se gli avversari giocono meglio sono più forti complimenti a loro noi abbiamo trovato un nostro equilibrio un nostro livello di gioco dobbiamo continuare a mantenerlo e allora salutiamo e auguriamo in bocca al lupo per la fine di questa stagione a polo a centrale di piacenza grazie crepi lupo anche a voi e allora mentre organizziamo un cambio qui in postazione di commento grazie mille